Già in seguito, sono Giammi Conciutissimo, video in compagnia di Marci Ciao Di Marco E di Tecca Oggi siamo qui in questo nuovo episodio delle Egg Wars per spaccare I culi, quindi mi raccomando ragazzi Ogni like che lasciate sarà un culo Che spaccheremo noi, let's go Ah no aspetta non è Yaku, scusami Ma evozziamo più di dai like? Aspetta Dicevamo? Ah no aspetta ancora No aspetta, ogni like E un voto in più alla maturità Esatto, però la maturità l'ho già fatta Quindi è troppo tardi Ci vediamo in partita Vabbè ragazzi siamo in partita No mi si è aperto il mondo Ragazzi guardate il pot Mi raccomando No ma ragazzi lo sta laggando Vieni qua Guardate DeMarc Ah quindi che devo dire Sì io Guardiamo DeMarc Giuro ragazzi Che non ci mette mezz'ora Ragazzi in questo video Arriva a 6.000 like Bardiamo DeMarc Grazie Nel prossimo video Bardiamo DeMarc Anziché Bardate in casa Marco vieni Esatto Bardiamo DeMarc vestito da pot Ah vai di cattiveria Ciao Vai Charlie Vai Charlie Ti han visto Ti han visto C'è l'uovo lì Charlie Non vado Aspettate che vai te Vai Vai Charlie Vai Oh, ci spacchiamo Sì, sì Rush Wars, bitches Ma il green è rimasto da solo Dove è andato? È qua Non ho ancora capito che è morto Ciao green, ciao No raga, facciamo team No è andato via Ma faceva un team Raga, dobbiamo andare al centro Da qui, sì, da qui E dobbiamo fare la doppia barra d'attura Per andare al centro Perché la doppia barra d'attura? Ah, mo ti spiego Allora, fai un po' di blocchi te Raga, ma loro, in sta base? Ma loro o loro? Devi farlo... No, questa volta loro No, Charlie, no, no, ste cagate, no Ma che fai, Marci, cosa, perché? Charlie, non devi far ste cagate E tu continua, Tecchio Devi andare un po' dritta e poi ti muovi alla fine Raga, ma io senza ora non posso barra d'attura Devono essere antirassi Eh, stiamo andando Tec, da esi, tec Grande Tec, Mark Tec, Marker Sì, è un Tec, Marker Fai la barra d'attura anche dall'altra parte, Luna Ma perché dobbiamo? Vado io, vado io Ok, vai Perché questa, questa mappa qui non è di arco, di più Solo di arco Non ci gioco da tanto Noi abbiamo il tecnico Il tecnico qua è diventato È diventato il nostro Marci Grande, ma C'è più cibo Spettacolo È un magic in the mark E poi Ho bisogno di chaibo Raga, sono arrivata Che è che vengo a cagartelo il chaibo Ma sono una woman Raga, me ne è veramente Cioè, veramente mi hai visto Charlie, occhio che c'è gente lì Charlie, occhio, eh Visto, visto Minchia che lag Stanno, stanno inseguendo i charmi Eh, lo so Ti stanno, ti stanno Aiuto, aiuto raga Aiuto, 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 aiuto Non c'è nessuno raga che arriva Non hai fatto niente Adesso niente Ah, ok Ok Dimmi se arriva Sì, dietro di te, tac, dietro di te Tac Ho visto, lo butto giù? Vai, vai Ragazzi, ma lag è come Come i miei armellini Quando sono in calore Non è andato giù, non è andato giù Ma perché è venuto qua? Eh, per fare questo È arrivato un altro Ma il bello è che non sa Non hanno capito proprio niente Non ho capito niente Loro credono che questa qua Sia la nostra isola Esatto Sono caduto io Parli, ce la fai? Eh, non penso Vieni, vieni, Charlie Vieni Ma cosa combattiamo? Ma di cosa stiamo capandando? Ci sono Ci sono Io ho solo due diamanti però, raga Dobbiamo attivare qua Marco ha fatto partire tutti i generatori Che mamma mia Mi hai fatto partire anche loro? Ragazzi, ma non avete capito niente poi Sono morto Comunque non hanno capito niente Eh, ma con cosa lo faccio partire loro, raga? Eh, non so A volte è già partito A volte è partito No, no, con diamante, meno Raga, sta provando arrivare, eh Raga, sta provando arrivare Sì Chil e ciano Raga, servono i diamanti Qualcuno deve andare al centro Marco, vai te Vai te, vai te un attimino Che sei già bardato Aspetta che devo killare Vai che sei già Sei già imparato tu Ok, ho killato l'altro Vado al centro adesso Ma raga, il problema è che non siamo noi contro i ciano C'è anche il team giallo comunque Non per dire Sì, sì Occhio perché È un casino qua Una cosa Marco Stay shallow man Stay, stay true No Che è successo? Sei un cretino Allora è un cretino No Per me Marco è un cretino Ho detto Hashtag Marci Gomito Che hai fatto? Hashtag Marci Cosa hai fatto Marco? Eh, sono caduto No Mamma mia Marco Mamma mia Marco Di sonore Sonore della famiglia Che cazzo ha fatto il buco in mezzo raga? Sei morto Marci Eh Charlie mi sei passata dentro e sono morto È ovvio Charlie mi sei passata dentro e sono morto Ma perché alla fine è colpa mia quando le persone muoiono anche se il buco non l'ho fatto io? Ma perché tu praticamente sei davanti a me con il lag mi sei passata davanti e non so come tu abbia fatto Charlie Luna non far domande No veramente raga non so come ha fatto Charlie a far sta cosa Ma non lo so Magi magia Raga ci sono i ciano che ci rompono le palle e stanno tornando Ma sempre qua nella base verde non hanno ancora capito che il verde non esiste più Raga guardate il uomo del... È vero guardate il letto Uuuuh Già l'è saltato È pesa questo Io parto il finto uovo guarda Mettilo ossidiano Raga io sto arrivando con te di... Mettilo ossidiano Quanto serve per attivare il loro? 5 tipo Però servono un battito Ce li ho ce li ho Servono 5 d'oro e 5 diamanti Gli diamanti ne ho 8 Però raga prima è questo Ma l'oro o l'oro? L'oro Non ho capito Secondo me è l'oro Ah questa volta è l'oro Perché secondo me è l'oro l'oro Ciao Demarchitos E l'oro l'oro Ciao Charlie Io ve lo dico la base è sguarnita Ah guarda c'è Charlie che torna a bardare Ora che è arrivato Stai arrivando alla mano di un ciano Raga c'è Charlie Ma come bardare? Ma raga ma io sto registrando No raga tranquilli Vengo a prendere il diamante E poi torno subito in base Sto io in base Raga perché ce n'è uno sotto? Raga c'è un Cyan sotto Che Marco fa pfff E sta venendo a lasciarmi Ma dove? Guardalo Vabbè ma io l'ho colpito Non è che posso pensare anche a quello lì sotto No l'hai colpito ma non è morto Eh zio Ma che dici? Ma perché ci sono io che l'ho ucciso Ah bello Ora sono grande Io so qualche diamante Bravo grande bravo Mark Sto tornando in base zia Ti ho attivato tutto Ti ho attivato Ma quanto sono produttiva Ma quanto lag vorrei dire Comunque oggi non lagga tanto più No affatti no Assolutamente Guardi la giornata anti lag Ma uccidiamo questo Cyan qua o no? Eh lo vogliamo uccidere o no? Sono tornato in the base Guarda che c'è un altro qua Raga io rush Ecco mi ha fatto fuori vedi? Ah Charlie Luna rush Mi piace rushare Charlie Luna rush per noi Eh quanto manca qua? Dieci Manca un diamante A periodo ancora Eh no Stanno lì nella cesta Marco li hai messi in cesta No tu preoccupate Raga io sto facendo un disastro Perché? Sto uccidendo tutti i Cyan Grande Arrivo Marci Arrivo che gli spacco il letto Ma hai fatto E devi spaccare il letto Eh l'uovo Quello che è raga Eh l'uovo letto Basta Vai massacralo Raga ma non sta laggando No di più Questa partita si chiamerà Il lag è con noi No 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 Eh vabbè Che il lag sia con te È arrivato con la spalla in diamante Eh vabbè ma la Raga sta arrivando un Cyan No l'ho mettato giù Scherzavo Brava Lina Charlina Marco passa i diamanti Uno no zio Eh metti No te li passo io a te Che tu sei in balzo Eh ma se lagga così Io non riesco raga Cioè io non riesco veramente Già laggo di mio Oh l'ho uscito Non riesci vuol dire che non esci più Ma questi I Ciano passano da sotto Ragazzi state attenti Ma da che parte Bisognerebbe fare un arco I Ciano Stanno arrivando Stanno arrivando un Ciano Marco È qua Ma come raga È qua Ah si è bardato Non so perché Sta facendo una cosa strana Ragazzi stanno arrivando in base Ci stanno arrivando Tec c'è il diamante Ti è lasciato giù il diamante Tec Gli sto togliendo il ponte Occhio Vuole buttarsi sopra Raga E si che vuole buttarsi sopra Mi ha fatto cagare in mano Ma Marci ma cosa No Ma Marci cosa Perché ci ha rotto l'uovo Beh non ti sono messo davanti a te Ti ha rotto l'uovo Dall'alto l'ha rotto Io non ho fatto niente Marco Non se te ne sei accorto Che non ho fatto niente Raga io ho rotto il loro Vabbè grande Charlie Vai torna Charlie torna Eh non posso Mi ha chiuso dentro questo Eh sali in alto Vado io Vai a te aiutarla Sì sono senza niente raga Fatemi un pozzo di armatura in diamante Raga Sono circondata raga Sono morta raga Eh non so Siamo lontanissimi Dov'è che sei? Eh sono nella loro isola Fai una Marci Una si è buttato giù Raga riesco a tornare Forse riesco a tornare Vai vai Charlie Vai Charlie No 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 Aspetta aspetta Ok vai vai adesso Arrivo io Mi faccio cederli Lai tanco io No 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 Non morire Ma 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 Torna in base Torna in base No 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 Non possiamo Fannire così Charlie Non sei caduta No no ma Questo mi ha ammazzato Mi ha ammazzato raga No 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 Laggo laggo Merda Ma dove sei? Ma la mia raga Sono nella loro isola Marci Ma mica è ritornata? No non ce l'ho fatta Perché poi mi ha inseguito Mentre tornavo Lui arrivava Senti Continua a correre Continua a correre Sto laggando E mi sta finendo Il cibo Cazzo Non lo trovo più raga Non so dove sia finito Scappa te Scappa indietro Ma tu sei quella Cosa c'hai splitter Tutta in led Sì Marci Marci attento Marci attento Ho ucciso Io trovo l'altro Trovo l'altro Sto cercando l'altro Te li butto io Raga faccio una spada In diamante Ve la porto Io ce l'ho Io ce l'ho Io ce l'ho Tutto il volo Eh aspetta Ok si si Ok L'altro Non so dove si è andato A buttare Raga Meno Woman Guarda che potrebbe Essere qua dentro Man Petek Sono io Sono io Ho la spada In diamante Ok Uno è morto Ok Ma chi è stato Ad ucciderci raga Eh un cilciano Ascolta Man Man Come vuoi chiamarti È una cosa Siamo uno Uno Quattro È in mano La partita Prendi un po' di diamante Se c'è No non c'è niente Fatti delle mele d'ora Allora Ce l'ho io raga Arrivo io Ve le porto io Ma Raga l'ho visto Dov'è? Lì Ce n'è uno Dov'è? Raga E il ciano E il giallo No il giallo Mi sa Andiamoci a dare il giallo Dai vieni con noi E il ciano Che facciamo? Ma niente Uscerà prima o poi Tanto Ma io la vuoi Tech dai Ho capito ma c'era un buco lì Eh sì ho visto però Però pensavo lo saltassi Perché ti tanco io dal giallo Perché vai te Vai te Eh raga se avessimo un Eh raga se avessimo un Cosa vuoi? Voi la spada di avanti Ce l'ho eh Non serve niente man Che scemo il giallo Raga il ciano è lì L'ho visto Aspetta l'uno aspetta È tornata la sua base? Luna vieni qua l'una Luna aspetta Ma non serve niente vai Ti do le mele d'ora almeno Torna 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 Tanco io tanco io Vai 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 No raga scappiamo Ritirata in base Ritirata in base Charlie Charlie Tieni qua Hai l'arco? Tieni qua No Mettite anche la cespede in ferro Ma non serve a niente raga Senza arco non facciamo niente Oh vado a fare un arco Dai poi te lo porto Vai vai corri corri Tec hai diamanti eh Due Attento marci attento Io mi prendo le sue frecce Cosa vuole fare? È da solo Gente che si suicida comunque Premio sportività proprio Sì ma sempre fanno così Pisso Avete blocchi raga? Sì Cinque Datemi tutti i blocchi 32 Datemi tutti i blocchi che avete Che devi fare? Faccio il punto per andare da lui Dall'alto lo fai? Attento marci attento No ma che dall'alto Guarda che è lì sopra È sopra il loro uomo Curbo eh? Ma non ha una mira neanche per il piffero di sua mamma Presa Occhio marci Niente raga non si può fare una cosa del genere Dove è marco? Hai fatto l'arco? Sto facendo le frecce Sto pesando un po' di oro Per fare l'arco Faccio le arche se riesce Eh marci abbiamo rigenerato lento Raga andiamo ci girate Raga si è girato No 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 si è girato di colpo Fa apposta Charlie Dimmi solo quanti diamanti avete voi Eh tre E io neanche uno per adesso Ma i butti giù per favore Aspetta ne vedo Anche l'oro se ce l'hai Come dovremmo far pinta di non andare e farlo venire al centro Se avete l'oro L'oro Guarda se riesci a darmi l'oro Dove sei? Vieni qua marci Nascondiamoci qua dietro un attimo Passa No ti ho dato le mele d'oro scusami Vai ripassa Grande Volete che faccia un altro arco raga L'ho diamanti apposta di fare un altro arco Eh sì Ho fitte blocchi Io ve li ho dati tutti Boh Ho fatto due archi in pratica adesso eh Ok Adesso dovremmo farcela Abbiamo davvero pochissime frecce 35 Ne ho 41 io Arrivo io allora eh Io ho l'arco E firmo la sua villager lui Hai l'arco marci? Ok Ah non lo pecchi da lì No infatti Ok Scusa Hai beccato Ah ecco Un bravo Marco Arrivo Ciali non ha inquadrato la scena bellissima No mi ero girato un attimo Quasi lì Fagli male marci Sto pensando cosa Che azione possiamo fare Ma non vedo niente Eh dobbiamo Dobbiamo avviarci tutti quanti con l'arco E colpirlo Oppure Ci sarebbe che uno li fa Il giro Passa argilato Esatto Tieni qua Charlie Ben io l'ho preso quattro volte Un colpo è morto Grazie Arrivo arrivo Marci aspetta Marci aspetta Ci sono io E e e e Cosa vuoi fare man Allora Allora Vieni Charlie dai Ok Charlie Sì Arcata finale Grandi Perfetta GG Va bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate tanti like Tanti commenti Mettete like per il petto nudo Del nostro caro pollo Noi in un prossimo video Ciao via a tutti ragazzi Ciao via Ciao Bella Bella